Domani non dovete andare a lavorare per caso, questo volevo sapere. Buonasera, sei la numero uno, bravo, ti amo. Ragazzi, io vi voglio ringraziare a tutti per i bellissimi complimenti che mi state facendo. Vi mando un bacio, non mazzacchi in mano vicino perché facemi sull'avello. Poi un'altra cosa, se ci sono le ragazze che sono niente prima sotto al mio barcone, ragazze, vi amo anche io e vi mando un grandissimo bacio. Mambo la scuola. Che cosa? E vabbè. Ma chi è che te l'avevo già insata? Tama, Laura, io il Covid e sto in quarantena, amore, ti faccio compagnia io, non ti preoccupare. Anche io, fine, allora, un mese che è passata, se solo volevo pensare, quello che stavo facendo, stavo chiesto anche la stanzetta con me, l'anno operatorio, proprio capito come? Grazie, nata, nata, avete capito? Ha rosto nippo, ma come le foto a me ha rosto nippo? Nippo, non sa, c'era chiudo, è un microbe, è invisibile, là. Ma anche un po' come un asci d'ora è meglio... No, ma non puoi dire che è invisibile, perché quello è più lungo, là è due metri. Cioè, se non lo vorrei, ovvio dire sempre. Avete capito? No, ragazzi, allora, io non tengo fame perché oggi sono venuti in nuova e mangiare. Però, è fammi sfizzi, non so a ciò che ho mangiato. È a fai sfizzi a che storia? Ma è già l'era, è fai, è fai, è fai, è fai. Ah, quanto è? Ma me la è, ma me la è. Ma me la vuoi essere scena. Ma non mi fa che fai un microbe. No, la chiamata aając in sacma bionda che mi ha fatto innamorato. Non lo porque. Ragazzi, c'è legata. C'è legata a dragon. In questa canzone, la taglia ti ha dedicato? 거 in questa? La canzone ti ha dedicato? Non? Ha detto, ma me la vuoi essere scena. Ma ne vuoi farò il cacchio? La chiamata agets in sacma bionda che mi ha fatto champagne a me. Che è sant'acera?! l'ho fatta in due, l'ho fatta in due ma ciò che è in due, è nera amore hai sempre accorto, non l'ho dubbio amore tantissimi auguri per il tuo esame domani, spero che verrai promossa ma tornando, lascia stare Sasi allora, stare a commentare, il tiktok ragazzi mi avete mandato ho visto prima in diretta, hanno fatto registrazione hanno già visto i commenti, perché i potenti che commentano sono andata a vedere, ha detto ma fammi capi ma tu l'ho vuoi o non l'ho vuoi questo niple, ma che si fa? no io non voglio, ma che scritto a fare che ho fatto a mano Giovanni è mio Giovanni è mio, Giovanni è mio tu non è neanche la mamma, lo sai è domani io non ti metto in cuollo a fare niple è quello Giovanni non mi voglio no, non so la faccia che vuol dire niple amore vuol dire una pallina di tessuto fatemmi le non ti metto in cuollo, non ti metto in italiano non mi metto in tessato Tisto. Ma quando è venuto anche... Ehm... No, 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 non lo faccio a fare, non mi... Però Adamo, io cresciuto ti voglio bene. Amo, amo, Adamo, io nippalo, io amo tutto quanto. Ora tu sei sempre al cuore. E perché quello non mi piace per cui Adamo, io cresciuto. E però io ti amo tutto quanto. No, ma... E poi, tu sei andato lì che il padre è��ato. Vado ogni morto e va? Vedi... Vedi? No, amo. E qua. E' bianco. E qui hai visto invece dove li li lo tieni? No, vedi. Tengo il colloquio pulito, è bianco. Ragazzi, e poi... Ma di non li! Aga, e poi, sta andando nelle che le maggi, perché le femmine. Ok, papa. eh eh però ti scambi il nipple questo cosa ma c'è tutto in un culo i nipple, hai capito? c'è chi sta se vinto o letto se è sussuta su se è sussuta per dirci chissà chi ne è nipple no, vado, non sa fa ma tu appassi a prendere la rossana a giugna ma tu ti fai? c'è la miseria fai entrare i nipple e ci fai 4 sate ma l'amore, non so porta cazzafà più poco prima meglio più poco prima meglio e poi ha commentato sotto i video che il nipple è mio questo è il nipple ma questo è uno cuoppile per me non è uno cuoppile non mi piace tanto ah non Stacca lo scoppe le coppie faccio sul piso ah non poi la roba chiamiamo Io volevo prometto come lo chiamava a uscire una casa... ...dia una casa, che mi chiamava... ...dia la casa, mi chiamava... ...dia da un'energia... ...e che l'avevo, mi chiamava a uscire. Io sono, ma cosa stavo facendo una sclina? E' questo? Tu ti hai fatto sclina? È di essere! Perché mi hai fatto sclina? Ma come sei brutta? No, io devo andare a scuola. Ma tua mamma lo vuole? Eh, Veronica no. C'è quello più cresciuto? Veronica non vuole. No, non voglio. E poi pensi che io non lo voglio. E' stato vicino a Cimano, mi faccio stare io. E così fa capire che la tua mamma... Che la tua mamma non lo voglio, e poi il mio amico non riesce. Scusa, non ho capito che questo non è buono. Come? A questa età? Questo è proprio i due popoloni pronti. E poi, come si chiama? I due popoloni pronti. Come si dice? I due popoloni pronti. Che stanno proprio i nippoli, non sai? E che le pallele... Ma io, ma non è che c'è stato proprio i nippoli in cuore. No, io non so, che si sta inguagliato. Soltato il microfono in cuore. Eh? Il virus. Eh? Oggi che? Che stai quando mi c'è la misa il microfono per andare... ...do caffè sabato. Ma? Passato poi non si è asciutto. Ma io non lo so, non ho capito. For you. O prosciutto. Ma, 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 criminal. Criminal, criminal. Ma, grazie. Ni non, grazie. Ni non ho sviluppo. Ma, giù, è tale qua. Ma, lascia qua, vorrei. No, d'Angelo, non ho sviluppo. È fatto vero? No. È fatto vero? È fatto vero. È fatto vero? È fatto vero. È fatto vero. È fatto vero. È fatto vero. Ma, mamma mia, figlio. Ni non ho d'Angelo. No, ni non ho d'Angelo quando ero 15 anni. Ma, mamma mia, tu non ho fatto brutto. Perché? Ni non ho d'Angelo è brutto. È brutto. È brutto non ho d'Angelo. Ma, mamma, chi l'ha così bello? E ancora, mamma, ti ha ragionevano quando ero 15 anni. E allora ho fatto una partita. No, mamma mia, tantissimi auguri, amore! Chi ha mesi troppo belli? Ciao, Emma. Chi è Emma? Boh! Ma io ho pensato una cosa. Ho pensato. Gioanna e Gemma di uomini e donne sono rassumiti. Non lo scusate? E come? Papà sono più belle, non sono più vicino a me. Ma dove? Non è più bello. No, non è più bello. 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 Non è più bello, non è più bello. Non è più bello, non è più bello. Non è più bello, non è più bello. Ho detto così. Ma che vuoi fare? È bello. Parlo quasi a te. Ma chi? Tu parlo quasi a te. Mi piace a te. Mi stai a fare una vecchia. È bello. È bello. È bello. E tutti mi hanno detto. Beh, dobbiamo fare un biccompietto per la lavatrice qua. Ma, sì. Oltre a te. Ho detto così. Tutti dicono, tutti, che ho un hippolo vicino a me non c'è zecca proprio. Ma hai visto un hippolo da te vuoi? Come, n'amore? Non so, c'è anche il poca. A favolo, a favolo, a favolo, è brava. A favolo, tu non stavi assieme. Un hippolo, n'amore? No, tu quanto, no, c'è zecca. E non c'è questa roba. E' un cosa più finanziata. E' veramente a si beve con la vicina. E' un bico. Non sei beve, non c'è una latina, ma veramente tu va a scendere qua, tati. No, non c'è beve, non c'è beve, non c'è una latina. E' un bico. Ma rovina, cosa parla con noi? Non c'è beve, 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 beve. Non c'è beve, 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 beve. No. Perché si è fatto un osso a papara? Perché non si è beve, no? Bravissimo. Si è confiato un osso. Pa, non ti ando che, non c'è точно di farcare le passi. Toca c'è la parola che si calledila non c'è in fuci. Guardi, ma come tu sei tu? Seiそれ, tu sei? Shafe, vai rovino la teX. Lo so di lui ok. Ce che perlazzi da�i lui ok. Ma, ti acceria di nuovo. C'è un po' di carne, non ti ho fatto? Ma ora, piano piano si dimentica, non ti preoccupare Ti puoi lasciare il nostro camion E' un po' di carne, su, tu ti fai un po' di carne E io, io non lo so, non lo so Ma io, io non lo so, non lo so E io, 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 non lo so Ma io, non lo so Ma io metto il capicino Ehi Comanda nindale, non si fai mangiare Si, si, tu mangia nindale Ma che se faccia nu allora, tu mangiare Ehi Carmen, non ti usi dal'altra fila alla nonna No Parabalabababru, quando hai un po' di carne Ma hai capito il peso vero? No, ma quando hai? ragazzi giusto che la mamma hanno poco appicciato menta menta sta a kill tu le misi norma o nippolo a che amamo tu sai come le mettono a nippolo non resisto a nippolo la roba sotto come usiamo la vanilla oh ma dai con biscotti in bocca ea mamma a fare un brutto telefono ma non mi metto in coppilato mamma mia non mi metto in giugno ma non mi metto in giugno ma non mi metto in giugno ma mamma mia ma che cosa non mi metto in paura c'è la mente che è tuo su suoni ma ma questa roba ha bruciato mamma ma come hai detto che hai dato la pezza ma hai dato la pezza la stessa ma non mi hai dato la pezza per la volata ma ci hai detto vicino a te ha bruciato con noi mamma mi ha detto con noi avete fatto tutto la brucia di scala è vecchio vero? come? ma non mi ha bruciato metti i filo d'asci ma non mi hai dato il quadrato così bello non fai niente io fai qualcosa allora che ci racconti? questa mamma c'è una quarantena ragazzi io sto qua non c'è niente che ne pensi del nippolo? che ne pensi? che ne pensi del nippolo? visto che alcuni fans alcuni follower non lo sanno racconta un po' la storia con il nippolo che ne pensi del nippolo? 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 non fai niente cosa pensi del nippolo? La tua opinione sul nippolo? Quale? Un nippolo? Chi sei? Vai! Vai! Eddi! Sincera? Eh! Non mi aspettavo che era così. Così con meno madre. Ma quella prima madre è meno madre. Tu non puoi mai capire. Vai! C'è meno maggiore? Che soffrivi! Ma che c'è? Che soffrivi mosse? Oh, il microfono va! Vai! Vai! Stanno i cosi! Stanno i rulli! Soffrivi mosse! Sì ragazzi, pure secondo me mia mamma lo vuole. Pure secondo me. Lo vuoi? E se fai parte, fai fin da fare. C'è che lo fa proprio capo a cucina. No! Oh! Oh! Ma si scende! Ma tu hai pianguto qualche volta per amore? No. Come no? No! Ma mi stanno guaiando. Tu qualche volta per amore hai pianguto? Per quando è nata Veronica. Ma che c'entra i miei figli miei? Non è innamore. Come è nata? Non 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 è nata i figli. Ah! No! Non è nata. Non è nata o n trilogy. Però non è nata. È nata per come. Da vede? Non si è nata! Oh ma sei! La cosa è tutto? Ha super fatto essa cosa? Se vedi a Veronica, a tutti potete aiutare, a convincere Veronica. Se vedi una mano sbagliare, poi non è vera. Ma ti ha dimostrato qualcosa, ti ha dimostrato solo che ci sono... Ci sono solito che suonano, che ci fanno una crisi. Quello che ci sono dimostrato sempre sarà. No. No? No. Non ti aiuti, Amor. Sì, mamma. Hai capo che non lo dicevo. Hai ragione. Adio, Veronica, non... Ah, no, sai, la casa fa vicino a quei nippolo. Non devo dire che ero comacato, avevo chiesto, avevo l'aglio di vostro e mi ha fatto quello rifiuto. Mamma, devo approfittare. Adio. Adio, non ti merita. Per Roma, per Roma, l'angelo. Ma va a tenno, lascia la porta, scena tenno. No, non ce l'ho... Non ce l'ho... Non ce l'ho... La pensione, no? La pensione. E che pensione prendi là? I primi dieci anni, da Pateria. Un adotto con mamma mia. Viene usare il gesto l'anno, la zucca. Ci vuole un uomo migliore, ma ha ragione. Ci vuole un uomo che mi devi dare amore. Ah, se mi chiediamo a Siri. E' il verga a me. Siri! Uh, sta suona così. E che dici? Tu trovi un uomo che mi ha tanto amore? Siri, un uomo per mia nonna. No, si comandava il cuore, mamma. E ora si sta bruciata. Brava. Ma perché non balli su? Ciao Siri, buonasera. Il mio cuore è... Ma chi si fa comandare il cuore? Ma chi si fa comandare il cuore? Ciao Siri, buonasera. Buonasera. Ma tu quello che non capisci poco. Ragazza, adesso parliamo un po' con Siri. Ma te lo vienesci poco. Tu quello che non capisci poco. Ciao Siri, buonasera. Buonasera. Uè, come rispondo? Vuoi farti una domanda? Non credo di aver capito. Eh, che si già capisci. Mia nonna sta in una situazione complicata. Non credo di aver capito bene. Uè! Gigi, ma mia nonna sta tutta appicciata. Mia nonna sta tutta appicciata. Appicciata? Anche di capito. Un appicciata? Mia nonna sta tutta appricciata. Eia, un po' da fare. Che buon bruciato. Un appicciata? Mia nonna. Aspia! Mia nonna sta tutta appicciata per il nippolo. Mia nonna sta tutta appicciata per il nippolo. non so se ho capito bene Sì ciao è stato buono non mi hai mai una risposta Sì mia nonna sta tutta a braccia a braccia come è magra lei non ha pulito Sì mia nonna sta tutta a picciare non credo di aver capito ehi Siri buonasera 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 ehi Siri dìmme una cosa ma che facci niente ho già trovato una mamma che mi dà tant'amore quando ti innamori di una pallina di di nippolo una pallina di tessuto no questo è quello che ho trovato su voi grazie guardate di la speciale me ne da poco sì ma questa pallina di di tessuto per poter ascoltare apple music non la voglia non la voglia la musica questa pallina è una pallina di tessuto non la voglia la musica è una pallina di tessuto è una pallina di tessuto è una pallina di tessuto nooo voglio che mi fai allora non è cosa è già la propria mano allora mamma apri hai già fai sempre nonna adesso ti faccio ti faccio delle domande eh sì però quando ti chiamo cioè tu subito mi ha rispondono ok allora ragazzi adesso facciamo delle domande a me tu subito mi ha rispondono cosa ti ha tratto dal nippolo il cuore tu dici la verità oh no i tu zilli che te ne vado cioè ma che sono ma che sono i tu zilli che te ne vado è l'unico è l'unico è essere intelligente oh oh non so non so perché noi te te chiamo non so cosa siamo noi cosa siete tu e il nippolo mostra proprio a where la lana che c'è nell'asciugatrice qua cosa siete tu e il nippolo la lana che ti piace un'asciugatrice ok c'è qualcosa che ti farebbe piacere vivere con il nippolo ma che domande mi fa Gesù sto domando su un nippolo ma amicizia se dovesse morire domani quale sarebbe l'ultima cosa che diresti al nippolo ti porterò sempre nel mio cuore su cosa ti piace meno di nippolo cosa ti piace meno di te che mi piace che le che è strunciato che fa non mi piace la cosa che non ti piace di te sì fatti cinque via va e che e questo non il nippolo questo non è un nippolo ne vero un nippolo svalan ma che ce ne fotte un nippolo ma che tu ne mergo prima ma che tengo la man la m Ma... Ma è vero, quando passi tu buttellare i figli, ma non so se si appalli fra compote. Che le esce, che le esce, che le esce. E ne ronze... Ma che te, vero, ma che te... Ma è famosa? Le esce, le esce, le esce, le esce. Le onda energetica, ja! Ma che... Le esce, le lunda energetica che ha fatto non le fai a schifto. Le esce, le esce, le esce... Le esce, le esce... Ello Paolo, ora mi serve la squadra? Lassi qua... Lo! Lo! Non, non. Non, non, non. Non, non, non. No, non, 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 non... Nessuno è vero, non c'è Gesù! Che ho un ippolo? No, che saranno in breve? Mamma! Che hai? Una domanda. Che è successo? Allora, ora ti faccio le domande. Eh, fai le domande. Qual è la tua filosofia di vita? Fa sorridere la gente. sei religioso o spirituale? religioso? ti consideri un introverso o un estroverso? che significa? non sai? no ve lo sai ma non lo sai ma grazie no questo non lo sai allora significa? wow come faremo? hai calzato, hai molto calzato allora, estroverso significa che sei facile ad aprire, cioè sei facile che hai tuto arabo coccolo no, allora no, sono introverso a me ma tu non hai studiato a scuola o studiato qui? allora, come va? a quali dei tuoi genitori sei legato e perché? a mia mamma ma non avrei un amico che mi spiego è qua, è molto telefono adesso qual è il momento migliore della tua vita? oh, ma fa malaca quando ho donato la vita ai miei pulcini qual è il tuo momento peggiore nella tua vita? ha cresciuto i miei pulcini ha cresciuto i miei cinque pulcini ma che hai fatto il gallino per roba e cosa? cosa ti fa sentire realizzato? la famiglia basta ha spiegato ha spiegato ha spiegato ha spiegato ha spiegato ha spiegato il tuo momento ma qual è la domanda? ci tengo problemi qual è il tuo compleanno? il 30 gennaio qual è il tuo animale preferito? un'ip 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 perché è un animale cosa fa nella vita? cosa fa nella vita? casa la lingua e mamma se potessi viaggiare ovunque nel mondo dove andresti? dove andresti? dove andresti? dove andresti? non ho chiesto come hai chiesto Sono iota e la gente che mi sovrava. Viaggia, non viaggia, non viaggia. Viaggia un po' iota, viaggia un po' iota. Reggio, fidi-mi un po' iota, fidi-mi un po' iota. Sai che dita come si è rispondendo? Come si è rispondendo a voto un po' iota? Alla volta. Noemi e Rosaria. Amore, un bacio grande, grande. E' un po' iota, un po' iota, un po' iota, un po' iota. Ma un po' iota, un po' iota, un po' iota, un po' iota. No, io voglio andare a Londra. A Londra? A Londra? A Londra. Oh, l'amore. Si chiama Londra. Ma non è vero? Ha gannato un po' iota, un po' iota, un po' iota. Ma perché hai detto, ma tu, vero? Ma quando mai no? Londra si chiama. Ma l'hai fatto gannato? Non mi credo. Io voglio andare a Napoli. Metti un po' iota, un po' iota, un po' iota, un po' iota. Scrive, hanno cambiato il nome, non si chiama più Londra, si chiama Londra. E' Guavir. Io voglio andare a Napoli. Ragazzi, non ho un nuovo profilo, quelli là che vedete sono fake. Perché quando io mi farò un altro profilo, io comunque farò un video sul mio profilo e lo dirò a dire questo è mio seguitemi, se volete mi seguite. Ma vi guarda che io non faccio un video così a dire seguitemi. Il profilo non è mio. Il profilo è il nostro, se lo seguiamo. Secondo me sbaglia. Avete capito? Giovanni è morto, un bacio amore. Dov'è Nippolo? Una rana... Una rana... Una rana... Mamma, questa rana cosa... Ma tu sei nato che ti ne botto in capo? No. Una rana non so c'è una tre. Una rana, rana nera, sull'arena ero una sera. Una rana nera... Una rana bianca sull'arena ero botto in capo. Ma lo hai scritto? Se non sei tu... Una platessa, lessa, lessa, lessa... No. Una platessa... No, però mi fai mettere a paura così. No, amore mio, sono... Sono a posto così. Sono fermo, bellissimo, pronto. Cuore! Stiamo a sentire a me, ah no parmomo. Stiamo a sentire a me. Siete fai... E la onda energetica... Tu la fai la mossa. Però con il bacio preoccupi. Che mossa? Aspetta, quale mossa? Devo accettare? Ok. E accettare mio marito. Ma io avevo la capo. Non l'ha detto. Ok. Che mossa devo fare? Perché ho visto una mossa che tu hai fatto... Tommy, io faccio un diner... Se ti caccusi... E tu poi ti fai... Tu caccusi... Non ti manca. Non ti manca il moto. Vai, ragazzi. Guardate questo momento epico. Aspetta. Va, 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 va. Ok. Tommy deve stare nella parte, però. Vado. Ma devo parlare o devo fare una mossa senza senso? No, la fai una mossa come te sto con penna. Ok. Sono pronto. No, tu penso, ma da... Vai, ci provo. Allora. Onda energetica! Ma che sei forte! Ma che sei forte! Ma il tuo ballerino! E ci è andato andato! Ma che sei forte! Tu c'è un tuo cucchiaio! No! 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 Tommy! No! Perché va a tre la mossa? Che devo fare? Qualche mossa è più che ti ha giroppito. Tu hai inzato la roccia. Ma il tuo ballerino! Eh sì, perché guarda. Tu mi hai colpito e mi hai preso tipo così. In modo di sbattere e si è alzata la gamba. Capito? Eh, però fai un po' più potente! Va bene. Ci provo. Ci posso provare. Vai. Onda energetica! Cazzo! 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 e depresso allo stesso tempo, quindi tipo immagina, tipo un mix. Ma ci fanno un minuto, fanno un minuto! No, perché stai... Adolescenza. Perché stai depresso e felice nello stesso momento, che significa? Perché sono felice della vita che ho, ma l'adolescenza fa i brutti scherzi ed è una moneta birchina. Ah, sei innamorato, cuore? No, assolutamente no, il mio cuore è una pietra. Ah, non sono la stessa. Fai bene, fai bene, cuore. Non fai se sa, finirà il nonno che sei innamorato di un'unico, eh? Eh no, no, tanto, tanto, trovate tutte cose, quando trovate una nipple, eh? Ho pensato? Che sei troppo bello, Tommy, te lo giuro, piace? No, io ti amo. Grazie. Guarda, i due complimenti valgono più di tutti, te lo giuro. No, poverso, sei troppo bello. Lo sai a chi assomigli? Assomigli un po' a Stampei quando va a pescare il cartone animato, però sei bellissimo. Allora, non so chi è, però vale il fatto che sono bellissimo. Come? Stampei? Chi è? Un cartone animato, dovrima. Un cartone animato. Un frattolo cartone. Un frattolo cartone. Chi? Un frattolo cartone. E come si chiama? Un frattolo cartone. Allora, si chiama Stampei. No, non lo conosco. Ui, lo che è chi? Stampei? No, non lo conosco proprio. Un frattolo cartone. Ma lì, ma lì, tu stiamo davanti a me. E perché? Quando l'altro stavo? Ah, in quanto anni ti? Io 17. Ah, loro sapevo mamma del padre. No, Stampei è già sinnetto. Perché quando hanno orivo? No, e poi mi ha scudato. Secondo me, mamma del padre lo sapevo perché lascevano insieme. Quanto tempo ha questo roso? Avevo pensato assai. Quando sei nato tu... Tante, tante. Tommi! Tommi, amma fanno quagliate. Tanti, sono 16 anni che è morto. Tommi, amma fanno quagliate. Sì, facciamo quagliate. Tommi, è facile però, eh, no? Che mi ha fatto sforzare. Perché io non ti ho molleggiato. Va bene. E lui facciamo anche se hai detto così. Ok, però devo cambiare posizione. Non posso. Devo cambiare posizione. Ma lei, ma? Adesso faccio il futuro. Cioè, sono, arrivo. Sto scendendo. Vai, Tommi, vai. Vai. Potere. Ci sono. Allora. Allora. Ne ho uno in testa bellissimo. Wow. Però... 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 Pari qua con volando. Non così. No. Però nel ballo... ...è la mia onda energetica e tu con il ballo finale. Ok. Non ci devo pensare. Allora. Cosa, ma così? No. Ah, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Allora, è facilissimo. È proprio facilissimo. Va bene. Va bene. Allora, inizia così. Sì, inizio prima io e faccio uno, due e tre. Eh, io faccio. Poi tu dopo di me devi fare uno, due e tre. Ah, hai sentito cosa do io? Sì, allora di nuovo. Uno, due e tre. Eh? E fa! Fallo, così. Ok, allora, uno, due, tre. No, è giusto. No, ha cos'è che la mia vera. Adesso devi fare così. Da qua. Sei così. Ma grazie. Ah, a già remare. Devo remare. Magari stai Aggiornando. È così, è così così. Guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guarda. Stai zitta. Ma ci devo fare? Ripetiamo. Ok. Uno, due, tre. Allora, uno, due, tre. Prema. REMA E poi PUNTO ENERGIA 1, 2, 3 1, 2, 3 REMA PUNTO ENERGIA A DECARATO SOTTO TOMMY Sì Sono coppicicuito Niente sono Sono stanco E che fatti la mattina che stai sanno? Niente E meno male E ti siano stanco Esatto Mamma mia No ma tu sei nato che soffri di crisi Sì Dalla nascita Dalla nascita? Sì Già sono arrivato e ho fatto così Sei come nippola allora Soffri di crisi Bella e buona No Dio No Come nippola mai Anzi la parte migliore sono dai La parte simpatica allora Vabbè però pure lui soffre di crisi Eh l'ho visto un pochino Eh l'ho visto un pochino Eh e voi Eh sì Eh l'ho visto Non conosco Ah va bene Ti sei salvata allora Sì assolutamente Ok Nel sto morendo Uè amore comunque Grazie mille a tutti Ciao 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 Carmen No 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 Ragazzi Non ci facciamo che si sta sotto alla live Perché si sta sotto alla live Perché si sta sotto alla live Non posso dire Per quanto? Bambini No ma non ci sta ancora No no Ma non ci sta ancora Ok E dice no Allora ragazzi Siamo lì entra E io e cammino Asciutto così O andiamo fisse Fisse e non dici Non è niente Prima di si fa Se sei salvata o no O belle bune Stiamo stiamo Ma ubbicchino Avete capito? Eh ma si M'ha febbra E mi fa Nippolo, se ci sei manda la richiesta perché ti devo dire una cosa Raga spero gentilmente non mandate le richieste perché se no io non lo posso accettare avete capito Ragazzi, come sta? Morì, ma è giusto, ma non è subito il richiesto, non è giusto che fate un nippolo È proprio un nippolo Ragazzi gentilmente per piacere potete annullare le richieste, grazie mille Sì, sono molto gentili Ragazzi, mi pare, non so come faccio venire da due mosse Ragazzi, mi faccio pure mosse a presa, prima che faccio Ma non mi sono tassi, tu alzami miei Ma non mi sono tassi, non mi sono tassi, non mi sono tassi Ragazzi, dovete eliminare qualche richiesta per piacere Microniplon, la nuova variante E poi non ho come nippolo Ragazzi, che mi fai? Guardate, sono tassi? Poi… Mamma, facciamo n expenditure abbiamo eliminato, no ragazzi io tengo ancora 19 no eh va bene, cancelliamo qui sono a posto aspettate Mariana e Vittoria un bacio amorucci ragazzi non mi andate, è natato 19 voglio farci tutto il dispetto no è inutile a loro, ingegniamo amici stasera non ce ne andiamo più se non eliminano le richieste io non le posso eliminare, se non le ero eliminate va bene, è inutile ragazzi ora per dimmiare solo per le pelle mi hai richiesto e facciamo sempre questa eh ma si fanno subito, vedi vedi ragazzi per cortesia non mandate le richieste è nata la foto 19 se non eliminate le richieste, il nippolo non può entrare ok, grazie ma non voglio, ma faccio tutto il dispetto ma non so, ma potremmo iniziano a loro nippolo la puoi mandare ora la richiesta, vai, vai grazie Mary mamma mi vedete super Grazie a tutti 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 Ciao, ciao Grazie a tutti 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 Salvatore Grazie a tutti 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 Ciao Grazie a tutti 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 No, no Grazie a tutti 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 Grazie a tutti